Lutto nel mondo del calcio a 82 anni compiuti lo scorso 25 aprile scomparso dopo una lunga malattia, Tarcisio Burnic da giocatore è stato uno tra i più forti difensori della storia del calcio italiano. Fece parte della grande Inter e fu protagonista ai mondiali del 1970 in Messico segnando una storica rete nella mitica partita Italia-Germania 4-3. Originario di Ruda in Friuli, Burnic da allenatore è stato molto legato al Como che ha guidato per tre volte, sedette sulla panchina della squadra lariana dal 1982 al 1984 nel 1988 e nella stagione 92-93 ottenendo una promozione e una salvezza in Serie A. Lungo l'elenco delle squadre che ha guidato oltre al Como, Livorno, Catanzaro, Bologna, Genoa, La Nero-Ossi, Vicenza, Cremonese, Salernitana, Foggia, Lucchese, Ternana e Pescara in Abruzzo la sua ultima esperienza da tecnico nel torneo 2000-2001. Da giocatore oltre che con l'Inter militò con Urdinese, Palermo, Juventus e Napoli le attestazioni di cordoglio sono arrivate da tutto il mondo del calcio a partire da Federazione, Inter e Calcio Como.